Siamo alla partenza della terza tappa di questo tour dell'Angawi con Omar Lombardi. Com'è andato questo approccio al mondo del professionismo? Finora abbastanza bene, direi. Per me, per la squadra non tanto, perché ieri due cadute, due si sono fatti male, però riescono a continuare. Io finora sono abbastanza tranquillo. Il primo giorno ho tentato anche la fuga, mi sono andato abbastanza bene. Adesso vediamo. Nei prossimi giorni, già oggi e anche dopo le tappe di montagna, cercherai di entrare ancora in qualche azione se è possibile? Sì, sicuramente ci proverò. Dopo bisognerà vedere anche come saremo messi come squadra, soprattutto Pozzovio se sarà in classifica o no, però dopo le tappe di montagna sicuramente ci saranno più possibilità. Al tuo rientro in Italia è già un programma o ancora è tutto a decidere? No, l'entrata in Italia ci fermeremo in ritiro due o tre giorni in Toscana fino alla gara di Donoratico. Dopo dovremo ancora decidere le gare da fare. Ok, in bocca al lupo. Grazie.